No vabbè non serve più nessun altro Io aspetterei che Che lei e lei salgano un po' Così faccio Subito avere un personaggio da dio Così faccio in modo che lui Praticamente faccia Cioè metta incinta tutte le Tutte quelle che ci sono Riguardante l'agilità In modo tale da fare tanti piccoli bambini con l'agilità 3-4 Poi li faccio arrivare a 5 con la sala atletica E li mando a lavorare con una tuta più 3 Questa qua Così arrivano ad agilità 8 E agilità 8 già è abbastanza Per lavorare Che cos'è che volevo fare? Volevo mettere giù magari Un'altra sala atletica Questo è un macello La volevo mettere qui Così così potevo mettere più persone a lavorare nella sala atletica Ovviamente qui metterò altre sale pesi però con calma perché costa Noi non ho tutta questa gente da farci lavorare Qui aspettiamo un attimino che ci servono un po' di persone per il laboratorio Quindi qui c'è le persone che si occupano di far recuperare la vita agli abitanti del vault Qui invece Appunto sono abbastanza alti loro come punti di agilità Ho pochi Ah ma c'è anche lui che ha agilità 5 Quindi facciamo una cosa di questo tipo Se non impiegate 72 anni si possono fare due bambini addirittura Quindi arrivare 28, 29, 30 Si potrebbe arrivare a 30 bambini e sbloccare la classe E dopo fermarci un attimo Mettere giù le basi Per far sì che tutto funzioni anche quando non sto giocando Purtroppo loro due hanno già fatto perché sono Sono madre Se sono già Hanno già fatto un figlio loro ecco Non sapevo come Infatti quando vi dice non c'è niente di meglio che stare a casa con la propria famiglia Perché hanno già fatto quindi Ok anche con lei Praticamente sono tutti dei puttanoni in questo vault No? Praticamente la danno come se non ci fosse un domani Quindi niente Mi sa che facciamo Facciamo che tu ti alleni un po' Tanto ora posso E facciamo che Usiamo 2250 Per accelerare Il potenziamento Quindi ci mette un'ora e mezza a te per arrivare a 4 A te ci metto 46 minuti Tu ci metti 6 ore per arrivare a 6 Quindi domani mattina Perché sono le 2 di notte Quindi domani alle 8 di mattina Si può già procedere Ed è molto buono Tu sei incinta Quindi tu torni a lavorare Tu anche Però magari non hai un'altra tuta No non hai un'altra tuta Anche tu hai nel tuta un po' meno particolare Non ce l'hai tipo questa Tanto alla fine dà gli stessi punti Lui da percezione Percezione Carisma Carisma E fortuna Abiti da signore Però Mi sembra abbastanza inutile Abbiamo 3000 tappi 3700 Quindi ha presi praticamente 25 Cioè ha preso un cazzo Ok Siamo messi abbastanza bene Il volt Anche messo giù bene L'unico mezzo errore È stato qui Per quanto riguarda Il laboratorio Centro medico Ma l'ho fatto di proposito Perché Sono un coglione Cioè Forse Se non ho potenziato Il laboratorio Magari Facciamo una cosa Tipo Che tiriamo via Il laboratorio E lo mettiamo E lo mettiamo qua sotto Spenderemo un po' di tappi Ma ne ho fatti tanti Quindi Non dovrebbe essere Ho già potenziato No Voi magari evitate Se stronzate Perché volevo farlo Molto bene Questo volt Sul mio Sul telefono Infatti L'ho fatto abbastanza bene Però nel senso Ovviamente Ho messo un ascensore Quando non serve Perché Basta metterlo qua Vabbè Mi sono portato avanti Con l'ascensore Perché comunque Prima o poi Dovrò metterlo Quindi Metto un laboratorio Qua Ok E loro due Li metto a lavorare Qua sotto Perfetto Magari Potenziamo anche Il centro medico Potenziamo il centro medico Il laboratorio Magari Ora come ora Stiamo fermi E potenziamo anche La sala pesi Cavolo Devo dire Abbiamo speso 6000 tappi Però abbiamo ampliato Molto il volt Ed è messo giù Molto meglio Praticamente Nelle sale basse Del volt Nel piani bassi Del volt Quindi più vicini Agli imperi Ci sono Ci sono Le sale Di Palestra E tutto Qui vabbè C'è il laboratorio Che forse Si è messo un po' Basso Però vabbè Poco importa Vi consiglio ragazzi Di Tenere delle persone In ogni stanza Perché sul telefono Da me Praticamente Quando mi attaccano I rattitalpa Nelle stanze vuote Mi intassano tutto il volto E mi uccidono anche 10 abitanti Rianimare 10 abitanti Vuol dire far partire 9, 10, 15 Mila tappi Dipende Che livelli sono Io ho qualche Abitante a livello 40, 45 Sul mio Quindi comunque E magari voi che giocate Anche da di più Magari Quelli iOS Lo sanno Quindi tenete sempre Tutto d'occhio Perché Davvero costa tanto Ora magari Appena arriviamo A 1500 tappi Potevo farlo prima Sono un coglione Ho speso tutti i soldi Per le sale Però vabbè È un investimento Per il futuro Perché così farò Dei figli Con agilità alta E loro comunque Arriveranno molto alti Come agilità E quindi produrranno Molto più velocemente Tanto i soldi Si fanno sempre Meglio Usare il tempo Per aumentare i punti Special Così sono già Belli Belli che pronti Niente ragazzi Questo qui era un video Abbastanza aggiornamento Sul volt E Come disposizione Vi consiglio sempre Appunto Di mettere Le stanze in fila Come vi stanno dicendo Tutti ormai Però se ne mettete Solo una Non vi preoccupate Perché più avanti Ne metterete un'altra A fianco Quindi comunque Non è nulla di grave Piano piano Ampliate tutto Non correte Non fate 700 figli Perché altrimenti Avete troppa gente E le risorse Sono troppo poche Quelle che producete Rispetto A quelle che consumate Quindi fate le cose Con cara Mettanto qui c'è Un'infestazione Di scarafaggi Che mi sa Che se non li ammazziamo Subito Mi causerà Un bel po' Di problemini Eh Cazzo Hanno poca vita Mi sa Mi sa che qui Qualcuno ci lascia Due persone qua Muoiono Mi sa Cosa Non è morta Ah no È morta una Ma immaginavo È morto Chi È morto Anthony Hart 520 tappi Per esempio Ragazzi Lo rianimiamo E ci ha lasciato Cioè nel senso Ci ha costato 520 tappi Questa infestazione Però nulla di grave Un po' di Po' di tappi Li abbiamo Ora piano piano Comincerò a rifarli Ci vediamo ragazzi Prestissimo E A breve uscirà un vlog Su qualche aggiornamento Sul mio canale In cui parleremo Guardatelo Perché sarà importante Ci vediamo presto Da Piazza è tutto Un saluto E ciao Ciao ragazzi Al prossimo video